Faccio un esempio, abbiamo una startup che abbiamo selezionato nel 2014, questa è una startup che si occupa di fare il monitoraggio delle transazioni fatti sui portali di commercio elettronico. Ora, un sistema che funziona con l'intelligenza artificiale, cioè un motore di antifrode che impara automaticamente a furia di lavorare, per la banalizzo, sugli ordini che vengono generati, allora io adesso non mi posso dire quanto è costato a Telecom prendere questo sistema e portarsela dentro l'azienda, perché noi facciamo questo, cioè noi prendiamo le innovazioni ma ce la portiamo a casa, attenzione, come funziona il giro? La startup che porta l'innovazione dentro Telecom, transita dei nostri acceleratori, diventa fornitore di Telecom e poi va sulle vendite, i nostri amici venditori le portano sui clienti finali, quindi attenzione, essere una startup di qualche in carica non vuol dire fare l'innovazione, vabbè poi ce ne mettiamo la bocca di presentazione, assolutamente no, vuol dire fare il business. Ecco, torniamo a parlare di startup e torniamo a parlare della possibilità di far insediare le attività lavorative qui nel Tecnopolo. Sì, oggi è il secondo appuntamento che ho organizzato con Digital Borgo, l'obiettivo è quello di attrarre startup, di investire sul polo tecnologico aquilano, sul Tecnopolo e il rapporto con Telecom in questo caso è un rapporto molto interessante, perché di fatto Telecom finanzia fino a 40 mila euro a startup, ma dà anche un contributo in ordine alla possibilità di sviluppo commerciale delle stesse aziende che finanzia. Quindi l'interesse delle startup è evidentemente quello di, come dire, farsi finanziare nel contempo avere un'opportunità commerciale. L'idea sulla quale sto lavorando, stiamo lavorando da tempo, è quella di riportare sul polo dell'Aquila, il polo tecnologico dell'Aquila, una serie di aziende ad investire, perché sono convinto che nei prossimi tempi e attraverso l'intervento pubblico e attraverso l'intervento di fondi privati si possa riattivare una realtà di estremo interesse all'Aquila. Noi crediamo in Te così tanto che oltre ad averti portato a casa e non averti chiesto nulla, se non di non fare la cosa che tu ci hai promesso di fare, per la quale hai preso di 40.000 euro, ti portiamo nel nostro mondo e te ne diamo ancora di spinta, perché creiamo così tanto in te che ti vogliamo far accelerare e diventare ancora più grande. Quindi è una crescita che si fa insieme. Più l'azienda cresce, più te non è contenta, perché ha portato l'innovazione, l'investimento che ha fatto può dire che è andato in tempo. Allora, quest'iniziativa startup di team è il secondo evento che viene ad essere organizzato qui nel Tecnopolo di L'Aquila. Con questo nuovo evento stiamo continuando in quella che secondo noi è la strada maestra per implementare quella che è l'occupazione di questo posto, ovvero andando ad unire quelli che sono gli elementi più importanti del lavoro. Il primo, la location. Qui il Tecnopolo d'Abruzzo ha una location, ha il tutto per poter insediare le aziende. Non è il solito capannone, ma è un insediamento industriale, dove il tutto è centralizzato, dove il tutto è gestito, dai riscaldamenti, aree comprasse industriali, guardiania, reception e quant'altro. Il secondo elemento è rappresentato dall'idea progettuale, l'idea progettuale che sono le idee delle startup, le idee delle giovani menti, le idee di quelle persone che oggi nessuno crede in Italia e che sono costretti a rivolgersi all'estero. Il terzo elemento è il soggetto, selezionatore e finanziatore, in questo caso team. Team mette a disposizione delle migliori startup 40.000 euro ciascuno, le quali se risultassero essere idonee potranno o potrebbero insediarsi presso questo nostro centro. Il Tecnopolo è unico nel suo genere, nel comprensorio comunale, in quanto qui dentro si coniugano diverse realtà, realtà che fanno anche rete, quella che oggi è secondo noi la soluzione a tanti problemi. Nel Tecnopolo d'Abruzzo oggi sono presenti 12 aziende, di queste 12 aziende hanno nel complessivo circa 1.500 dipendenti, in queste aziende sono ricompresi anche due nostri progetti che abbiamo coadiuato ad insediarsi, quindi uno spin-off universitario è presente ed una startup. Questo spin-off e questa startup risultano essere già delle prime risposte e speriamo che un giorno queste startup e questo spin-off organizzino. Qui parliamo il Tecnopolo d'Abruzzo di una realtà di 175.000 metri quadrati, di cui circa 50.000 coperti, di questi 50.000 coperti restano circa 6.000 metri quadrati. Di questi 6.000 metri quadrati, delle diverse tipologie che vanno dalle clean room, delle camere pulite altamente tecnologiche, a aree più pertanente industriali fino a giungere, e questa è la notizia attuale, che tra circa un mese procederemo ad inaugurare la palazzina e galleria uffici, una sorte di isola direzionale dove già hanno preso, perché hanno già stipulato i contratti, prenderanno spazio i più importanti studi legali, commercialisti e tecnici della città.